Collezioni da uomo ma anche quelle da donna per la seconda volta a Pitti negli spazi della Dogana di Via Valfonda. Il servizio è di Francesca Venezia di Canale 10. Da Firenze a Bologna dove l'Arena del Sole ospita fino al 25 luglio la mostra Armonia e del Gusto. In esposizione i prodotti eccellenti dell'enogastronomia bolognese. Vediamo il servizio di Cristina Abruzzi di Telesanterno. Il festival di Villa Arconati è ormai diventato un classico dell'estate italiana. Ogni anno ospita personaggi della mondo della musica e dello spettacolo sempre più prestigiosi. Il servizio di Angela Nittoli di Telereporter. www.telecentroodion.com è il sito su cui potete rivedere.